Ben trovati, ho rispolverato il OnePlus 6, perché? Perché si è aggiornato ad Android 9.0 Pie con OxygenOS 9.0 Quindi qua dentro ci sono un sacco di tante belle cose che non vedo l'ora di farvi vedere Qui vedremo tutte le novità che sono state, diciamo, integrate da OnePlus rispetto ad Android 9.0 Ma non sto a farvi di nuovo tutta la storia, l'elenco delle caratteristiche nuove di Android 9 Quindi vi consiglio di andare a vedervi il video che vi lascio linkato in descrizione In cui con un Pixel 2 XL vi ho mostrato tutta la carrellata dei cambiamenti che ci sono stati con l'aggiornamento Che ovviamente troverete per intero integrati qua dentro, che è uno dei vantaggi di avere un software come quello dell'OxygenOS Vediamo Eccoci qua con il nostro setup di aggiornamento Lui è OnePlus 6 aggiornato ad Android 9.0 Pie con OxygenOS 9 Vi faccio vedere che non vi sto mentendo Guardate qua, numero build, Android 9 Qualche tap Ed ecco qua l'easter egg tanto tanto agoniato da parte dei possessori di OnePlus Dunque vediamo subito quali sono le novità Intanto per cominciare vedete che c'è una grafica con delle icone leggermente diverse Guardate qui la tendina delle notifiche come ha subito il restyling di Android 9 Sinceramente io la preferivo prima Ma OnePlus ha fatto qualcosa per migliorarlo Ovvero c'è la possibilità di andare a selezionare un tema prendendo un colore custom Adesso vi faccio subito vedere Potete scegliere sempre tra tema chiaro, scuro, a colori Io vi consiglio uno di questi due perché quello a colore non mi piace per niente Ma soprattutto qua a colore evidenziazione ci sono i soliti quelli della tavolozza Ma anche questa possibilità dove potete andare veramente a selezionare tutto quello che vi pare Proviamo a mettere questo qua Arduino, vi fa vedere anche qui un'anteprima di come verrà fuori Andiamo ad impostare il tema Ed eccoci qua, vedete che così è nettamente più bello Poi passiamo subito ad un argomento spinoso e importante Barra di navigazione Vedete che ci sono i soliti tasti di navigazione Ma se io vado qui su tasti e gesti, poi barra di navigazione Vedete che ci sono delle nuove possibilità Ovvero home, back e recent esattamente come adesso Possiamo anche andare a scambiare i tasti Però qua direi nulla di nuovo Poi abbiamo i gesti per la navigazione Li conosciamo, sono sempre i soliti Quindi uno swipe prolungato per andare nella home Uno swipe interrotto per andare qua E uno swipe laterale per tornare indietro Ma quello che ci interessa di più è questo Back home La nuova navigazione con la pillola che è stata introdotta con Android 9 E funziona così Praticamente viene fuori questa pillolina al posto della barra di navigazione E poi si usa in questa maniera Uno swipe interrotto vi porta nelle applicazioni recenti Adesso vi ho spoilerato già un'altra delle novità Le apro recenti ma ve ne parlo dopo E un tocco da qualunque applicazione Adesso scusate qua non avevo ancora configurato niente Un tocco vi fa tornare alla home E invece se andate ad aprire per esempio Delle pagine successive Compare questo Che vi permette di tornare indietro Non è tutto perché Tenendo premuto sulla pillola e muovendosi Si può passare da un'applicazione all'altra di quelle recenti E invece facendo così si passa all'ultima app aperta Eh bisogna un po' abituarsi Però sì devo essere sincero Io l'ho usata un pochino sul pixel questa modalità E alla fine sono tornato ai tasti di navigazione Però insomma è qualcosa in più Fatemi sapere se magari vi piace oppure no Allora visto che ve l'ho spoilerata Parliamo subito della nuova schermata delle app recenti Adesso c'è questo carosello orizzontale Non lo so vi piace non vi piace Da quanto ho capito qualcuno la ama qualcuno la odia Vado ad aprire qualche applicazione in più Qua ho appena aggiornato quindi insomma c'è tutto da configurare Ma vabbè abbiate pazienza Allora torniamo alle nostre app recenti Allora una cosa che mi piace un sacco Sono le animazioni Perché vedete nel momento in cui io vado a fare questo C'è proprio una fluidità bellissima no Ok Alexa Vabbè scusate Alexa mi stava interrompendo Allora dicevo queste sono animazioni che a me piacciono tantissimo Danno proprio un'idea di fluidità Per esempio guardate qua Quando io vado a chiudere un'app Guardate l'animazione che fa entrare le altre di lato Insomma è veramente fatto benissimo E fa parte di quei dettagli che danno quell'idea di software molto molto curato Poi non è tutto Toccate sui tre pallini Per le app ovviamente che possono andare in schermo diviso Che non sono queste Non sono queste Ecco il play store magari Eccolo qui Modalità schermo intero Niente Schermo diviso Va a finire qua E qua sotto potete Sceglierne un'altra Con la pillola La cosa che mi piace anche è che Quando voi andate qua a toccare Vedete che Potete andare a cambiare direttamente l'app che c'è di sotto Secondo me è funzionale Veramente Visto che vi ho parlato di animazioni Allora vi faccio vedere che ci sono delle animazioni nuove Nel momento in cui andate ad aprire un'app Che secondo me sono stupende Guardate Ok Vedete che L'animazione parte esattamente dal punto In cui si trova L'icona Secondo me Questa anche E' una di quelle parti che Vi danno l'idea di cura Vedete Parte esattamente dal punto in cui si trova l'icona Altra animazione Qua Nelle impostazioni Quando voi toccate una scheda Vedete che c'è questa animazione Se vogliamo Molto più rallentata Rispetto a ciò che siamo abituati su OnePlus Dove le animazioni erano proprio ridotte all'osso E quindi da una parte Vi dà l'idea forse di Meno Di uno smartphone Forse meno scattante E meno veloce Ma in realtà non è assolutamente così Vedrete che Dopo un attimo di ambientamento Vi sembrerà anche Insomma più Più Urroso ecco Per dirla Come piace a me Però vi dà la sensazione di un telefono Che gira in maniera fluidissima Poi una delle novità di Android Pie Ve la faccio comunque vedere Perché OnePlus ha aggiunto una piccola cosa Questo è il nuovo Selettore del menu Che spunta fuori qua di lato Qui potete andare a selezionare L'uscita contenuti multimediali Se collegate una cuffia Bluetooth La trovate qui Potete mettere la spunta Dove volete che esca l'audio E poi Avete qua I volumi multimediali Diciamo Poi se toccate Potete entrare nella Nella scheda audio Con tutte le altre Con tutte le altre cose Già che ci sono Già che sono qui Vi faccio vedere Questa modalità Non disturbare Che era già presente Ma è stata completamente riorganizzata Qua nelle Nelle impostazioni Quindi qua la potete abilitare Qua potete attivare le notifiche Senza l'audio Poi avete anche Questa parte qua Che mi sembra sia nuova Che non c'era prima E qua invece potete scegliere la durata Quindi la pianificazione E attivare automaticamente Questa per esempio è nuova Prima si poteva solo attivare automaticamente Mi pare Comunque Se non ero qua C'è stata tutta una Una certa riorganizzazione Del menu Tra l'altro Non spaventatevi Se qui non vedete Alcune cose Perché Sono state Molto spostate Spostate qua e là Per esempio Nella scheda utilità Adesso qui troviamo Modalità di gioco App parallele App locker Che lo conosciamo benissimo Accensione e spedimento Modalità task E niente di nuovo C'è OnePlus switch Che è stato aggiornato Adesso qua Devo consentire Tutto quanto È stato aggiornato La versione 2.1 Quindi Permette di fare delle cose in più Insomma Dovrebbe essere più efficiente Poi App parallele Adesso qua Purtroppo non le vedete Perché io ho riconfigurato Il telefono Quindi è nuovo Ma Parallel app Che è il tool Che consente di clonare le applicazioni Ora supporta Molte molte più applicazioni Di terze parti E modalità di gioco È stata aggiornata La versione 3 E porta dei cambiamenti I cambiamenti Sono Dunque Qui Abbiamo la possibilità Di visualizzare notifiche Solo testo Quindi Mentre state giocando Avere una notifica Senza l'heats app Classico Vedete proprio l'animazione Che ve lo spiega Ma solo del testo Su sfondo trasparente Che insomma Dovrebbe disturbarvi Un po' di meno E poi l'altra cosa È questa Notifiche per le chiamate Di terze parti Sono praticamente Supportate adesso Le notifiche Tramite Eats app Per le chiamate In arrivo Danoti Da applicazioni Telefoniche di terze parti Oppure da app Social Per esempio Una chiamata whatsapp Una chiamata Su facebook Una chiamata Su google duo Sono tutte applicazioni Che vengono supportate E non andranno a interrompervi Se avete impostato Attivato la modalità di gioco Mentre prima Questa cosa funzionava solo Con l'applicazione Telefonica Di sistema Poi c'era un'altra cosa Nelle beta Anche sull'ultima La beta 3 Che avevo installato Prima di fare l'aggiornamento Che permetteva Di andare a Richiamare L'assistente vocale Con una pressione Di 0,5 secondi Qui sul tasto Sul tasto power In realtà Adesso non la trovo Ho smanettato Un po' qua Nelle impostazioni Ma veramente Non c'è Quindi o non la sto trovando Io Quindi vi do L'autorizzazione A Insultarmi Nei commenti Sgridarmi E dirmi anche Dove la posso trovare Perché altrimenti Mi sa che l'han tolta Purtroppo mi sa che l'han tolta In che Mi dispiace un po' Se per caso Non vi foste ancora visti Il video su Android 9.0 Pai Vi ricordo giusto Che oltre alle novità Grafiche Che vi ho fatto vedere Qua dentro Ci sono davvero Un sacco di ottimizzazioni Sotto il cofano Tanto che Genericamente Tutti i telefoni Che ho provato Che sono già Stati aggiornati Funzionano da dio Quindi Questa è sicuramente Una cosa positiva E devo dire che Le mie prime impressioni Con questo OnePlus 6 Aggiornato Sono estremamente Positive Ho fatto un giro Nei commenti Che avete lasciato Anche sotto l'articolo In cui vi comunicavamo Della possibilità Dell'aggiornamento E tutti voi Siete stati più o meno Soddisfatti Sia per la grafica Che le performance Teoricamente Dovrebbero essere migliorate Anche le performance Fotografiche E quello del Face Unlock A me sembrava Ok prima Mi sembra ok Anche adesso Bisognerebbe fare un confronto Proprio proprio Dedicato Se avete già aggiornato Magari fatemi sapere Nei commenti Cosa Cosa ve ne pare Per il resto Devo dire Un aggiornamento Che convince Complimenti a OnePlus Per aver aggiornato Velocemente Che ne sarà Degli altri telefoni OnePlus Nessun problema Perché a partire dal 3 Quindi 3, 3T, 5 e 5T Verranno aggiornati Veramente Nelle prossime Nelle prossime settimane C'è da aspettare Ancora un pochino Se con OnePlus 6 Non avete ancora ricevuto L'aggiornamento Over the air No problem Perché vi lascio In descrizione Nell'articolo Che ho scritto Di accompagnamento A questo video Il link Per scaricare Il pacchetto Zip E fare l'installazione Manuale Basta andare Nell'impostazione Aggiornamento di sistema Poi toccare Sulla Sulla chiave In alto E fare aggiornamento Locale Lui subito Troverà Troverà il file Questo file Dovete metterlo Nella memoria Del telefono In un posto Generico Nella root Diciamo Nel percorso principale Quindi Tutto molto Molto semplice Se volete fare Proprio le cose Per bene Magari io vi consiglio Di fare un reset Ai dati di fabbrica Dopo aver fatto L'aggiornamento Così Per essere sicuri Che proprio sia tutto Che fila Filarisce Ovviamente Fatevi un backup Fatevelo anche Prima di installare L'aggiornamento In locale Se avete questa idea Perché Potrebbe sempre esserci Qualcosina Che non torna Bene Direi che è davvero tutto Se vi è piaciuto questo video Come sempre lasciate un bel like Iscrivetevi al nostro canale Io sono Matteo Vi ringrazio di aver scelto Ancora una volta Tutto Android Noi ci vediamo Al prossimo video Ah Vi lascio linkato anche In descrizione Un video che ho fatto Sugli iPhone Non sono impazzito Ma Andatevelo a vedere Ciao Ciao